Ciao ragazzi, benvenuti sul mio YouTube canale, dettagli in questa altra roba che ci trovo, benvenuti su questa lettura settimanale dal 18 marzo fino al 25 marzo 2024. Buona domenica a tutti ragazzi, vi do il benvenuto su un'attrozza di questo podcast più lettura della domenica, ormai siete tanti tantissimi che mi guardate, grazie tanto a queste premiere e a chi sta in questo momento con me, sto a chat tanto con voi, Maria, Marilena, Ilaria, Anna Rita, Ceci, tutti, tanti, siamo tantissimi, non me ne vogliate, me ne sto dimenticando un paio, Gordon anche, Gordon welcome so much, Gordon è un signore dell'Irlanda che mi aiuta un pochettino a guidarvi nella premiere dove stiamo. Come state ragazzi, come state tutti quanti? Questa venere è centrata in pesci, no anche questa congiunzione che il 21 marzo avremmo, 21? Non mi ricordo, no, non il 21, sì il 21, no, aspettate, il 21 marzo e poi la congiunzione con Saturno, ecco però anche questo sole che abbiamo avuto adesso in congiunzione con il sole, adesso, proprio adesso, questi sono questi giorni qua adesso, se volete sentite qualcosa, bella, bella, bellissima, cominciamo a sentire un po' la primavera, no? Allora, prima di entrare nel mio piccolo mini, mini, mini podcast e poi con le mie letture, una, come ormai sempre tutti sapete, la mia breve raccomandazione, iscrivetevi per favore a questo canale così non perdete più le letture, un like per favore, sempre questi benedetti like, non vi dimenticate, ancora grazie tantissimo per il proprio vostro sostegno, venerdì ho scaricato le letture fino alla fine di marzo, e poi io un altro canale, a chi non lo sa, si chiama Beauty Master of Scorpio, è tutto dedicato a Scorpione, se è un solo, una scendendo, una luna, un venere, qualunque pianeta, sul Scorpione, anche se non hai pianeta in Scorpione, se è più che la benvenuta, ho benvenuto, e anche se vuoi guardare per uno Scorpione, anche se non c'entra, sei sempre il benvenuta, ho la benvenuta, ho il benvenuto. Allora, ragazzi, anche se mi volete offrire un caffè, vi metto il link qua sotto, mandate su più, poi vedete tutto, no, anche l'orario, dove metto sopra la pressione, se volete offrire un caffè, sotto k o striscietta fi punto com coffee un caffè virtuale, se volete, sarei più grata e molto grata, molto onorata, se mi volete offrire un caffè, così anch'io ho un po' la possibilità di evolvere, posso fare più letture su questo canale. Poi Android Life prima può essere, sì, può essere prima di Pasqua Android Life su questo canale, per la lingua italiana, come anche per l'inglese, vi dirò quanto, circa, non so quanto ancora esattamente, però sì, andrò live, potete farmi poi anche delle domande, anche con i tarocchi, e anche per conoscerci un po' meglio, per chi non mi ha visto ancora live, vi informerò di sicuro. Per Pasqua, ragazzi, domenica, per Pasqua stessa, poi il 31 marzo, se non erro, non ci saranno letture, non so, può essere che lo faccio il sabato, può essere che metto lo sabato, lo scaricarò, non lo so, per domenica, no, per domenica, beh, anche venerdì santo, non ci saranno letture, non so se se lo faccio quel giovedì, un giorno prima del venerdì santo, o può essere che lo scaricarò il giovedì, ma niente di che, non sarà una grande lettura poi, e poi per la settimanale, può essere che lo faccio il sabato, o può essere anche per Pasquetta, però il venerdì e domenica, per favore non vi aspettate nessuna lettura, perché quella poi sono giorni, no, in festa, basta che lo sapete, basta che siete informati, ma dove è Luana? Ok, Allora, poi, 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 io credo che ho detto tutto, sì, credo che veramente ho detto tutto, dove è passata voi la Pasqua? Fatemi sapere voi come l'ha passata, o con chi io credo in famiglia, no? Fatemi sapere se rimanete qua, se andate via, fatemi sapere. Io credo che in questo, per l'informazione, dopo 5 minuti, che mi sa che ho detto tutto, fatemi sapere voi, se volete sapere qualcosa in più. Allora, entrando un attimo alla mini podcast, ma è breve, è veramente breve, però, ci tenevo a sapere un po' anche voi, cosa ne pensate, come mi ricambiate questo senso, no? Quando l'amore è tanto potente, no? L'amore, sì, io parlo dell'amore romantico, amore, poi, certo, abbiamo tutti, tutti nel nostro mondo, abbiamo un po' di amore, no? Però l'amore romantico, quando abbiamo quei, quei, no? battiti forte del cuore, quando ci sentiamo tanto innamorati, ci sentiamo un po' fanciullini, no? Ritorniamo di essere un po' fanciullini, quell'amore che, no? Ci sentiamo tanto, no? Quelle farfalline, nello stomaco, ma anche dopo un po' di tempo, dopo qualche anno, mi sa, quelle farfalline, cambiano un po', essere un po' più, no? Tranquilli, però l'amore c'è, no? Quanto potente, bella l'amore che so sia, perché io sto facendo questa podcast, anche perché so venere, in pesci, stiamo tutti un po', no? Fantasticanto, poi come anche ho già detto, non solo venere si congiunge al, al, al Saturno, però poi anche il venere si congiungerà anche a Nettuno, che se non erro è la fine di marzo, perciò anche quella sarà bella, no? Ci, poi se ci rinnamoriamo, sentiamo qualcosa, proviamo ancora, fantastichiamo, sarà bella, veramente, sarà bella. Poi con Saturno sarà un po' più, un po' più, un po' più seria, però, più per lungo termine, no? Se aspetti una risposta di lungo termine, può essere che qualcuno finalmente si ufficializza, sarà più seria, diventa più seria, poi, come ho già detto, venere entrerà a Nettuno, e poi cominciamo, no? A fantasticare, a, un po', a pianificare un po' il futuro, eh? Anche per i single, questo anche per i single, può essere, specialmente se sei pesce, cancro, scorpione, eh, questo va totalmente al tuo favore, però anche i seni di terra, che faranno questo stile, però, un po' per tutti ragazzi, un po' per tutti, veramente, non, per tutti, eh, succederanno cose bellissime. Allora, poi anche Mercurio in Ariete, siamo poi tossi, Siamo, la vogliamo, quanto vogliamo percepire, vogliamo capire, vogliamo fare, vogliamo entrare, vogliamo entrare in atto. Quanto bello quest'amore, no? Quando arriva quel sorrisino, ci arriva quel sorrisino, come ho già detto, poi sentiamo, e tutto un tratto sentiamo tutti gli uccellini, della primavera, queste campane, no? Domenicali, che, che fanno ding dong, ding dong, bella, no? L'amore è bella, però anche come, questo amore è potente, no? Come, come ci sentiamo amati, ci sentiamo messi particolari, in priorità, ci sentiamo belli, ci sentiamo belli, ci sentiamo bene, non mangiamo più, tutto un tratto non ci si mette, mangio più, perché stiamo tanto bene, no? Ci sentiamo amati, vogliamo dare tanto amore, tanto veramente bello, quando arrivo questa amore è potente, no? Però c'è anche il contro, certo, adesso non voglio essere la guastafeste, però c'è poi, poi c'è anche, no? Quando non tutto è eterno, non tutto è sempre eterno, non c'è niente eterno, eterno è solo l'universo, è quello che credete anche voi, Quello sì, quello eterno, però non c'è mai niente di eterno, poi tante volte, quando in tutto un tratto, questo sorriso, ci si può spegnere, no? come perché non ci si è più, non ho quella lettura, non ci si è più compatibili, in tutto un tratto non ci si capisce più, può essere che qualcuno ha perso l'amore, ha trovato l'amore in un'altra energia, in un'altra persona, poi quando tutto è un tratto, finisce e il sorriso viene spento, ed è anche quello il brutto, no? Di capire, quando si comincia a amare, c'è sempre anche, però anche una fine, è raro ragazzi, no? È molto raro che un amore tiene, tanto, tantissimo raro, molto raro, che un amore tiene, per sempre, no? È un po' come la nascita e la morte, ci si sa quando ci si nasce, c'è anche poi la morte, la stessa cosa con la morte, qualunque inizia il percorso di vita, no? Però poi è anche importante ragazzi, di saperlo stesso, gestire quel sorriso sul viso, no? Di lo stesso, poter imparare, provare a avere lo stesso quel sorrisino, di non perderlo, ragazzi, la motivazione, la grinta, proprio l'amore per la vita, no? Io vi chiedo, mi invito ragazzi, di pensarci, sì, certo, è bello, quando c'è l'amore, tanto bello, però, anche le persone che circondano, ci circondano, di lo stesso, dare anche a loro, no? L'amore, a chi lo desidera, nostro, di non perdere mai, quel sorriso ragazzi, di non, è importante, lo stesso, anche se fa male, e ci sentiamo, no? Dei straccini, pezzi di cacchetta, se posso permettimi a dirla così, di lo stesso, imparare a sapere, cosa ci circonda, di non rassegnarci mai, so che voi tanti, anche siete soli, tanti voi si sentono abbandonati, so che voi tanti non vi sentite capiti, non vi sentite amati, basta guardarvi un po' in giro ragazzi, attorno, no? In giro, attorno, delle cose belle che circondano, di mai rassegnarci, anzi, anzi, di proprio in quel momento, di andare avanti, proprio in quel momento di, no? A vedere quello che ci circonda, e quello che ci viene restituito come amore, e quello che lo stesso noi possiamo dare per amore, no? Anche se non avete figli, avete nempotini, avete dei cagli, avete gatti, non lo so, avete, siete amanti dello sport, volete intraprendere un nuovo hobby, avete tanti amici, anche se avete pochi amici, quella chiamata, la fatela, no? A quell'amico perduto, tanto tempo fa, o quell'amica perduto, tanto tempo fa, e se proprio dite, no, non mi va proprio neanche di fare quella chiamata, allora, amatevi, voi stessi, voi avete, una, 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 quella, nessuno, ve la può toccare, ma siete voi a prendervi cura di voi stessi, ragazzi, una vita avete, quella, coccolatevi, viziatevi, fatevi quello che volete con voi, adoratevi, amatevi, privilegiatevi, se si dice così, no, Anna Rita mi ha detto, no, devi fare una compilation, delle parole inventate, delle parole inventate, mie, infatti, un giorno, poi, se la faccio, sta compilation, no, a parte scherzi, Anna Rita, ti voglio bene, no, di amarvi, alla vostra vita, ragazzi, e lo so, che si sente molto cliché, sì, tanto tutti dicono, sì, happy flower, tutto unicorns, no, non sto parlando di quella, ragazzi, io sono la prima, che ha dovuto andare sotto, 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 in cantina, di più di in cantina, ancora sotto, scavarmi, proprio io, sotto, per recuperarmi, l'energia, non, perse, che questo risino, avevo perso, ormai, non volevo neanche più, per cosa, invece, come ho già detto, anche nell'ultimo podcast, e anche nel secondo podcast, io questo lo dico veramente, per farvi capire, ragazzi, che non siete soli, non siete solo a soffrire, e non siete nei primi, e nell'ultimi, questo è l'amore, ecco, questo è l'amore, vi voglio, anche se voi dite, no, io non mi interessa più di nessuno, voglio stare single, voglio stare, anche quello va bene, ragazzi, ma non vuol dire, un toglie fatto ciò, di amarvi voi, allora, coccolatevi, portatevi vivo in quella vacanza, andate in quella spa, andate a fare quel massaggino, andatevi a perrucchiere, andatevi a fare belle, belli, andate in palestra, andate a mangiare al ristorante da solo, o da sola, fa quel cavolo che vuoi, coccolati, è importante, no, io sono qua anche per tenervi anche un po' di compagnia, ragazzi, anche questa, questa domenica, no, se siete qua domenica, perciò, non pensate mai che siete soli, non pensate neanche perché, a chi fa YouTube, o fa televisione, o si mette in mostra al pubblico, ragazzi, non abbiamo problemi, anzi, io come mi conoscete, io sono vulnerabile, mi piace parlare anche della mia vita, privata in quel senso, a quello che ho passato io, se mi va di piangere, io lo piango, se va di ridere, rido, se voglio scherzare, scherzo, questo sono io, non mi metterò mai maschere, mai, anche la stessa cosa con le mie letture, ragazzi, sono sempre sincera, anche se fa male, a parte quello che poi dico sempre, divertiamoci con i tarocchi, non mai forzate, mai, i tarocchi sono energie, ragazzi, che io percepiscono, nel collettivo, poi per il vostro segno, ma io dico sempre, divertiamoci con i tarocchi, la stessa cosa con le astrologie, ragazzi, però io amo quello che faccio, amo in tutto e per tutto il mio lavoro, non è solo un lavoro, è passione, eppure anche amo aiutare le altre persone, ecco, sentite? amo amare, aiutare, sostenere, ad altre persone, è importante per quello che facciamo, che ci mettiamo amore, in tutto quello che facciamo, ragazzi, io spero che mi avete capito cosa voglio dire, perciò non perdete mai, mai le speranze, anzi, quanto pensate proprio che le perdete le speranze, e là è bello di riprendervi voi, sotto il braccetto, di parlarvi a voi stessi, dire dai, andiamo, facciamo quella camminata, andiamo al mare, andiamo a berci quella birra, anche se non so sola, ma chi se ne frega, vado sola o solo, andiamo a fare shopping, il sabato vado a fare shopping, non mi serve nessun amico, non mi serve nessun compagno, o una compagna, io vado sola a fare shopping, mi faccio io, mi do io i consigli, per cosa mi posso comprare, e sono un esempio, ragazzi, io so che anche tanti hanno tanti amici, sono coccolate di anche quei amici, però non perdiamo mai la speranza, ragazzi, e non vuol dire perché, in quel momento, non abbiamo nessuno, per condividere il senso, l'amore romantico, che siamo soli, e non siamo ben vissi, o siamo destracetti, anzi no, è proprio là, è bello, di proprio coccolarci, in quel momento, e di amarci, tanto, tantissimo, molto importante, io credo che ho detto tutto, sì, ho detto tutto, dopo quasi 18 minuti, io entrerai adesso con le letture, fatemi sapere un po' voi, come la pensate, fatemi sapere, se la pensate un po' come a me, o la pensate proprio totalmente diversa, io lascio i commenti aperti, veramente anche per quello, se siete innamorati, se siete, se state, vi state vedendo con qualcuno, se vi stanno cominciando a venire queste farfalline, no, allo stomaco, godetevi quel momento, è veramente bella, la cosa più bella, quando c'è l'inizio di un amore, o se trovate ancora amore per qualcuno, o che non avete più, se ha fatto poi il suo corso, no, io dico anche è sempre bello, poi amare all'infuori, come si dice, all'istante, no, si dice all'istante, no all'istante, dell'istante, dell'istante, sull'istante, ma avete capito, anche quello è bello, anche quello è bello, unconditional love, no, di non essere bloccata, di amare, nonostante quello che è successo, di perdonare, farci perdonare, che l'amore vi trova, non siete voi a trovare l'amore, ma l'amore che trova voi, quello posso essere più che sicura, che l'amore, se amatevi prima voi stessi, poi arriva anche l'amore per voi, quella è una promessa, ragazzi, allora, iniziamo adesso, io inizio con i segni di fuoco, ariete, leone, sagittario, dopo entro nel, nel, segni d'aria, acquario, gemelli, bilancia, segni di terra, toro, capricorno, vergine, poi segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione, allora, dopo 20 minuti, iniziamo per questa lettura, dal 18 di marzo, e vediamo che succede, ciao ariete, ma lofting, datemi per favore, per la mia ariete, cosa è ariata, ariete, può sapere per questa lettura, l'appeso, nove di spade, e sei di denari, più sta passando il tempo, e più ti stai preoccupando, non ti preoccupare, se ti posso a un consiglio, ariete, il cavileo di bastoni, ti stai, ti stai un po' troppo, ok, come ti posso dire, ti stai bagnando prima di piovere, no? Se si può, se posso dirla così, non ti, non ti, aspettate che, Giulio, che se c'è la possibilità, di vederle più le carte, no? Che tanto me ne hai detto, vorrei vedere le carte, ok, ehm, come che, no? Come vi state rilampicando un po' sui specchi, o bagnarvi pieni di piovere, vi state preoccupando un po' veloci, non so perché, vediamo, eh vabbè, Mercurio, nel vostro segno anche, allora, l'appeso, sei di coppe, la ruota, la fortuna, la regina di spade, cinque di spade, nove di denari, e il risveglio, sei di denari, il diavolo, e il mondo. Allora, cosa dovresti può essere, terminare, Ariete, cosa vedo, è di pensare che tutto il mondo è contro di te. Io sono Ariete, l'una di Ariete, perciò io so cosa sto parlando, no, a parti scherzi, provate a non pensare che tutto il mondo è contro di voi, provate a avere, se puoi essere più pacienti, se mi posso permettere a dirlo Ariete, perché appena che tu pensi che non ti arriva una cosa, subito una risposta in quel momento dove tu te l'aspetti, ci rimani male, o dici no, tanto l'ho persa, o tanto non va, o tanto lo sapevo, e tanto ma chi me lo fa fa, no, è un mindset che dovresti, potresti, diciamo lo potresti cambiare, andrebbe nel tuo favore Ariete, non, perché alla fine ti sei preoccupata per niente, alla fine no, questi negative, questi mindset negativi, non ti portano a niente, prova invece a, a essere più paziente, paziente a capire che tutto ha il suo tempo, di non pretendere tutto e subito, ma ognuno ha il suo ritmo, se mi posso, a permettermi a dirlo Ariete, allora dammi un consiglio per questa settimana, la peso di nuovo, la ruota della fortuna di nuovo, e l'imperatore che sei tu, voilà, e l'eremita sotto il mazzo, ogni cosa Ariete che ci si fa, abbiamo tutto il nostro tempo, se sta aspettando una risposta da qualcuno, non pensare che subito sarà un no, o subito, tanto non mi chiameranno, tanto non lascia, no, ognuno ha il suo ritmo Ariete, rispetta ogni ritmo, che sarà anche rispettato il tuo ritmo, ok? ok, buona fortuna, e sì, perché poi alla fine no, quando ci aspettiamo, le aspettative, tante volte queste aspettative, fanno brutti scherzi, ne posso parlare per ore ragazzi, in Ariete, con lui in Ariete, sono aspettative, perché siccome siamo noi sempre, no, subito, vogliamo tutto e subito, la vogliamo il ritorno, e però non è giusto, e sono anch'io così, e ci sto imparando anche io, allora, leone, ma il love team, datemi per il mio leone, nove di denari, la regina di denari, l'asso di spade, otto di bastoni sotto il mazzo, ti viene data un'opportunità, leone, questa settimana, sembra chiara, sembra chiara, però sempre anche onesta, e ti arriva tutto un tratto, come ti arriva una risposta, può essere anche fuori, fuori, fuori di quello che te l'aspettavi, visto variette con troppo aspettative, e tu proprio non te l'aspetti, dammi il nove di denari, come siamo diversi, sole, la torre, non te l'aspetti, il re di coppe, dammi la regina di denari, l'asso di coppe, 5 di coppe, e la forza, molto leone, ho due leoni, la luna, le amanti, e il lotto di coppe, ti arriva tutto un tratto, però sta a te a decidere, leone, la settimana sta a te a decidere, e come che avrai la scelta, tu hai la possibilità di scegliere, però ti arriva tutto all'improvviso, può essere anche già stata, come già ti è venuta qualche giorno fa, adesso però devi rendere conto, come devi dare una risposta, questa risposta deve essere data, e tu mi come mi pensi, sì ma devo avere coraggio, o mi importa avere coraggio, o può essere, certo, può essere anche tu verso di loro, tu verso che qualcuno chiede, o tu hai una risposta da qualcuno, quello può anche essere, però qualcuno qua sta aspettando, se non sei tu, è l'altra persona, o è l'altra situazione, però ti viene tutto all'improvviso, arriva tutto all'improvviso, dammi per favore un consiglio, anche tu la ruota alla fortuna, la torre di nuovo e 5 di denari, 7 di coppe, no, non devi pensare che, perché ti senti un po' sotto pressione, perché in tutto un tratto, come che qualcuno dice, sì è leone, ma adesso non devi dare questa risposta, non ti senti obbligato, se posso darti un consiglio leone, per niente, prenditi tempo, però quel momento che dici, che ti darò la risposta, però devi anche darla, la tua parola, leone, quando dà la tua parola, no, e poi io so, il leone è molto di parola, però, mette, lascia la parola, e, rispetta, la parola, no, se posso dirla così, dici, no, ti do, la risposta fa 5 ore, 5 giorni, 5 settimane, però poi devi darla, poi, puoi essere anche viceversa, che tu chiedi a qualcuno, una, una risposta, e deve essere di parola, può essere anche che ha a che fare con un atto leone, leone, quello può anche essere, però, fammi sapere tu, fammi sapere nei commenti, che adesso, adesso con il mercurio, in ariete, nella vostra ottava casa, allora, sagittario, ma il loft in datemi per il mio sagittario, il sole anche tu, 4 di coppe, 9 di denari anche tu, a che hai, che fare con un leone, asso di coppe sotto il mazzo, no, la vuoi, tu dici, la voglio è concreta, non so se tu stai aspettando la, la risposta di leone, mi sembra quasi una cosa così, tu, no, a parte scherzi, tu mi dici, no, la voglio è concreta, non, anche tu, com'è che stai aspettando qualcosa, però dici, no, la voglio concreta, non deve essere per forza una risposta, può essere anche una official, officializing, no, quando ammettiamo di qualcosa, officializing, come si dice, ufficializzi qualcosa, no, ufficializzazione, perché il sole è anche, no, e ufficializziamo, può anche essere, perché tu mi dici, se no io rimanco là dove sono, non, non mi sposterei neanche di 5 cm, dammi il sole, 8 di denari, l'asso di bastoni, 9 di spade, dammi il 4 di coppe, 3 di spade, la regina di coppe, il re di denari, 9 di denari, 5 di denari, la stella, la regina di bastoni, esattamente quello che provo a dirti, tu mi dici, e tu mi confermi, la vuoi, deve essere giusta, però è come che ti sta cominciando, averti un po' di ansia, perché ancora non hai quella conferma, e tu dici, io non voglio proprio, non voglio forzare a nessuno, però se già mi viene poi data, o mi viene data la possibilità di avere quella conferma, la voglio giusta, se no manco mi sposto di 5 cm, ecco, se non neanche mi sposto, sto là dove sono, anche se non è proprio quello, il top che volevo, però non devo forzare a nessuno, ok, dammi un consiglio, 8 di denari, il carro, l'imperatrice, The Harfans ottenmazzo, tu stai lavorando qualcosa, sagittario, che è molto importante in questo momento, può essere anche un progetto, non so che cos'è, tu me lo dici, è molto importante, e se, e tu la vuoi quasi alla perfezione, e mi dici, se mi viene data questa energia, questa, questa, conferma, ed è niente, o quasi niente, o né come la volevo io, la desidero io, lascio stare, perché non c'è il match, non compace con quello che ci sto lavorando io, spero che mi hai capito, perché dici, non mi puoi portare a cosa di futile, o sul banale, se ci sto lavorando così forte, può essere una persona, può essere anche una situazione, quello può anche essere, perché non c'è il match, dici, non può andare così, ok, allora, entriamo adesso nei segni di aria, acquario, ma loft in datemi per il mio acquario, questi like per favore, non vi dimenticate i like, dammi per favore per il mio acquario, 9 di bastoni, 9 di denari anche tu, tutti sono single, non lo sto scherzando, 9 di spagna, 2 no, no, ma che dico, hai 3 novi, ho un 27, porta un 9, dici, ho un 9, hai 3 9 acquario, 5 di coppe sotto il mazzo, prova, allora acquario, vedo qua, come che sei un po' stock, sei un po' bloccata, ho bloccato, subito, fai qualcosa acquario, non ti perdere, ho un bicchier d'acqua, se te lo posso dire così, subito, devi, motiviti, devi fare qualcosa, che ti dovrebbe riportare motivazione, sei troppo giù, vediamo, dammi il 9 di bastoni, 7 di spade, 3 di bastoni, 6 di spade, dammi il 9 di denari, la high priestess, 4 di denari, 8 di spade, 9 di spade, cavaliere di coppe, cavaliere di denari, e il 3 di coppe, siete i bastoni, lo vedo, acquario, che stai provando di tutto a motivarti, motivarti, lo vedo, ma non è abbastanza, devo essere sincera, fai di più, so che puoi fare di più, acquario, sto parlando di acquario, no? ok, ancora abbiamo Marte nel tuo segno, perciò puoi, sei ancora in tempo, a cambiare delle cose, è come che tu non credi neanche più, alla tua intuizione, al tuo istinto, non credi più un cavolo, tutto quello che ti viene portato, ma non è che sei negativo, o negativa, io non sto parlando di negatività, io sto parlando, come ti viene dato, come è regalato, percepito, perché tu mi dici come, in questo momento, non posso neanche più fidarmi, di me stesso, o di me stessa, vedo come delle energie, che vogliono entrare, a darti una mano, a toglierti un po' di questa, diciamo, mindset negativa, fai difficoltà, datti una spinta in più, acquario, datti quel calcetto in più, acquario, e te ne puoi uscire, non dico depressione, non la vedo ancora, però sei in un stato molto, non dico neanche confusione, molto triste, ti senti, come che non hai una via di scampo, o fai fatica, invece no, invece no, alziti quel fondoschiena, e vai, 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 comincia, allora chiudi il YouTube, e vai subito, esci, fatti a fare quella passeggiata, se hai un cagnolino, vai con il cagnolino, se sei vicino al mare, vai al mare, anche se hai brutto il tempo, fa niente, vai, esci, comunica, no, guarda cosa sta intorno a te, dammi un consiglio, asso di coppe, cavi e di spaglia, non ti incavolare, non ti incavolare, perché il re, no, che re, il ragazzo di Tenai Sottemmazzo, tu dici, io ero più pronta, sono pronta, io quanto ti voglio amare, do tutto, di me stessa, o di me stessa, ho capito acquario, ti ho detto sei acquario, non ci dimentichiamo, sei acquario, e tu mi dici, quando mi viene percepito, cosa voglio dare io, mi arrabbio, ho capito, però attenzione, di nuovo acquario, che questa arrabbiatura che hai, la puoi convertire, no, di cose più brutte, perciò lascia sta, se non è andata, non era giusta, non era per te, non faceva per te, lascia sta, non ti arrabbiare, ci saranno altre occasioni, anche, non è quella persona, la tua destinata, pensala così, se non è andata, con quella persona, non è la tua persona destinata, c'è altro, però prima, prendi cura di te, ok, ok, buona fortuna, acquario, esci, comunica, socializza, spegni con gli youtube, vai, non devi neanche più guardare le mie letture, acquario, allora, gemelli, vediamo per i gemelli, my love team, tre di coppe, cinque di denari, dieci di coppe, non so se sei tu gemelli, o una persona vicina a te, che, vuole dare pace, però qualcuno ha difficoltà a dare pace, o mettere pace, il re di denari sotto il mazzo, qualcuno dice no, no, non adesso, non so se sei tu o un'altra situazione o persona, dammi il tre di coppe, diavolo, l'appeso, otto di denari, cinque di denari, dieci di bastoni, la temperanza, l'asso di spade, cinque di coppe, la forza, e il carro, ascolta, di nuovo, non so se sei tu gemelli, ogni volta quel tuo gemelli, ho un po' di difficoltà a capire se sei tu o l'altra persona, può essere sagittario, capricorno, leone, cancro, e pesci in the house, eh? Se qualcuno vuole fare pace, se non mi interessa se sei tu o l'altra persona, se qualcuno vuole fare pace, e l'altra non vuole, non c'è niente pagliata, non c'è trippa per i gatti, non va, non puoi forzare qualcuno, è giusto che non ci si forza, lasciamo tempo a tempo, e quello come viene, il recepì, replicato, eh, no, lasciamo andare, a me non, se l'abbiamo fatto noi, il primo passo di fare la pace, adesso non so che pace è, non sembra amore, può essere, gemelli, ma non deve, non lo vedo come amore, di amore romantico, può essere anche di famiglia, amici, non lo so, se qualcuno ti pone la mano, e non l'accettiamo, va bene così, non dobbiamo forzare, vuol dire che l'altra persona, non è pronta, a fare questo passo, diamo tempo a tempo, no, non ci dobbiamo rimanere male, perché tu, se sei tu, già mi dici, ci sono rimasta male, e se l'altra persona, che ti ha dato la mano, ti ha dato la mano, quell'altra persona, ci è rimasta male, either or, dobbiamo rispettarci, i nostri ritmi, certo, poi non è che dobbiamo passare, anni luce, però, lasciamo stare, lasciamo tempo, ecco, vediamo come viene poi risposta, questa azione, 5 di spade, che sei tu, il 3 di bastoni, e il 3 di denari, può essere che sei tu, che ha voluto questa pace, o provi a dare pace, anche in questi giorni festivi, non deve essere necessariamente, questa settimana, può essere anche prima di Pasqua, riportiamo questa famiglia insieme, può anche essere, 5, 3 e 3, non la vedo come romantico, gemelli, deve essere sincera, la vedo forse più come, ancora, come famiglia, parenti, una cosa così, o qualcuno prova, almeno, a tentare la mano, buona fortuna, gemelli, certo, poi, no, i giorni festivi, ci si vuole passare, ma, mi conoscete, me, io, sono sempre per la pace, non so perché, no, è Pasqua, Natale, Ferragosto, o, no, no, sempre, proviamo sempre, a avere questa pace, tra di noi, tutti, tutti quanti, tutti, bilancia, ma Loftim, datemi per la mia bilancia, 2 di coppe, 3 di coppe, 8 di denari, wow, e, e te che ti è successo, bilancio, il cavale di bastoni, sta entrando energia, tipo, ciao, 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 tutto subito, adesso, facciamo, diciamo, connettiamoci, cominciamo, non so se, non so se ricominciamo, o cominciamo, questo non lo so, però, questo è anche tu, questo è anche tutte e due, però, l'impatto è forte, qua, dammi il 2 di coppe, l'asso di bastoni, la stella, 3 di coppe, 3 di coppe, la regina di denari, il mago, e il cavaliere di bastoni, ogni desiderio è a suo ordine, bilancia, eh no, però poi non ti devi lamentare, sì, ma qua c'è cose che puzza, eh no, perché lo stai manifestando tu, bilancia, ascoltami, ascoltami, gioia, lo stai manifestando tu, però poi non ti devi chiedere, sì, ma se puzza, e se non è seria, e se non va, e se mi lascia un'altra volta in 13, e se mi, no, lo stai manifestando tu, e perché lo stai manifestando, ti sta rientrando così, esattamente come vuoi, perciò, quello che tocchi, quello che vuoi, sarà, eh, esaurito, si dice così, esaurito, sarà preso come ordine, come Genie in the Bottle, no, la lampada magica, se si dice così, ehm, no, la stai manifestando tu, eh, però poi non devi dire, non lo so, non lo so se è quello che voglio, non so se è vero, non so se è giusto, eh no, eh no, poi da devi ciappà, se l'universo ti dà un regalo così bello, bilancia, ciappatolo, eh, si parla di acquario, eh, di capricorno, di scorpione, e di, un po' tutti, i gemelli, anche i gemelli, dammi un consiglio, ragazzo di bastoni, il, la forza, il cavaliere di coppe, è un lotto di coppe, sì, non ti devo andare su una parte, si dice no, quando la natura chiama, l'uomo risponde, no, non ti devi nascondere però, mi lancia, mi raccomando, non nasconderti, perché quando arriva, acciappala, acciappala, pigliala, non so neanche più, come devo esprimere, non so neanche più come devo esprimere, sono talmente veloci, guarda, se tu staresti nella mia testa, e poi faccio difficoltà, e poi faccio difficoltà, non so neanche più come, in quale lingua voglio esprimerla, perché mi vengono tutti, i pensieri, i nostri pensieri ragazzi, abbiamo, no, no, altra volta, i nostri pensieri, non ha un linguaggio, giuro, non ha un linguaggio, perché sono i nostri pensieri, e come noi la pensiamo, in quel momento dovremmo esprimerla, e quanto sono tanti i pensieri, e sono tante cose che vuoi dire, io faccio difficoltà tante volte, non so voi ragazzi, ma da piccola, da piccola, da piccola ho avuto, ma io penso sempre tutto veloce, e facevo difficoltà anche a esprimermi, fino a oggi, poi ce lo dico sempre, chi mi vuole capire, mi capisce, chi non mi vuole capire, goodbye, arrivederci, e I'll feed the same, toro, my love team, datemi per favore per il mio toro, nove di bastoni, l'eremita, e tu il mondo, wow nice, very nice, il cavale di coppe, ti piace qualcuno, o comincia a piacere qualcuno, o qualcuno comincia a piacere a te, o qualcuno ti piace, o tu piaci a qualcuno, questo volevo dire, non fare il modesto, o la modesta, prova a, advence, no apriti, apiti, apiti, spacca quel muro davanti, toro, vediamo, dammi nove di bastoni, la forza, l'otto di bastoni, il cavaliere di bastoni, dammi l'eremita, re di denari, la regina di coppe, e l'asso di coppe, io che ti ho detto, il mondo, il ragazzo di coppe, il cavaliere di spade, e il re di spade, il cuore, toro, non ci si può comandare, quante volte devo dire, non ci si può comandare, al cuore, toro, perché sembra, che tu mi riporti, sta iniziando tutto come un gioco, o è iniziato tutto come un gioco, e invece, mano a mano, che il tempo sta passando, non è più un gioco, sta diventando sera, e questo, e tu dici, no, no, io voglio ritornare là dove eravamo, stiamo giocando, no, non si può più, non si può, in quale lingua devo esprimere, non si può, non si può, perché ormai è iniziato questo tratto, ormai è iniziato in questo passo, e con questo passo, di conseguenza, vai avanti, non aver paura, toro, non aver paura, non pensare che, no, aiuto, e mo che faccio, mo si interappola, no, goda da là, goda da là, perché come che provi a trovare un po' di un, una scusa, tipo, no, no, stai là, io sto qua, e no, hai iniziato, a stai a gioco, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, toro, dammi un consiglio, l'eremita, vi amo, l'appeso e l'asso di coppe, sì, perché vedi tutto un tratto, tutto diverso, tutto un tratto vedi il mondo diverso, tutto un tratto vedi il colore diverso, tutto un tratto vedi te stesso diverso, te stessa diversa, e poi, come già detto, ti mette in quel stato, no, di, ti appeso, tipo, e mo che faccio, e mo so capri, no, sto scherzando, è bella toro, goda da là, goda da là, non ti preoccupare, non aver paura di niente, intanto per l'amore non devi mai aver paura, come ho già detto nel mio podcast, no, se l'hai sentito, non dobbiamo subito pensare, sì, tanto ci sarà la fine, no, no, lascia di andare, lascia di coccolare, e ama, lascia di amare, specialmente, buona fortuna toro, capricorno, my love team, datemi per il mio capricorno, la morte, 4 di bastoni, 5 di coppe, la luna, stai cominciando a capire che ti fa male qualcosa, ti manca qualcosa, o regret, come si dice regret, aspettate, come che ti ne pendi qualcosa capricorno, come dici, sì, e se l'ho fatta giusta, e se l'ho fatta sbagliata, e se l'ha fatta storta, se l'ho fatta dritta, l'ho fatta esagerata, non l'ho fatta esagerata, vediamo, dammi la morte, 5 di spade, l'imperatore, la luna, dammi 4 di bastoni, il matto, la regina di bastoni, e il risveglio, 5 di coppe, il re di bastoni, la porto qua, la regina di bastoni, 3 di spade, e il 5 di bastoni, la stella sotto in mazzo, non puoi, allora, non so se sei tu, puoi essere che sei tu capricorno, questa energia mi porta, è finita, non ci si può fare più niente, non possiamo più ritorno indietro, no, non è vero, se puoi, se puoi, si fa, questa energia mi esprime, tanto è finita, non posso fare più niente, anche se la desidero, anche se ci riproverei, perché mi manca, può essere che ho sbagliato, può essere esagerato, può essere che ho fatto qualcosa di sbagliato, non è vero, non è mai troppo tardi, per riprovare, per rimediare, no, per riparare, non è mai, non c'è mai ritardo, non c'è mai, anzi, ci si può sempre riparare, non è mai tardi ragazzi, mai, però, certo, non è più facile, come prima, può essere prima che era rotta, però anche se è rotto, si può riparare, no, recuperare, qualcuno qua, questa energia che apriva anche sto leggendo, tiene tantissimo ancora l'altra situazione persona, e vuole recuperare, l'unica cosa, ha difficoltà a sapere se ancora c'è una chance, anche se qualcosa è finita, questa situazione mi dimostra, sì è finita, ma come potrei allora recuperare, se vuoi, c'è la possibilità, potere e potere, non so se sei tu o l'altra persona capricorna, solo tu lo sai, eccetera, se dici noi non voglio più niente, e ritorno, poi se qualcuno lo vuole con te, dammi un consiglio, il mondo, la regina di bastoni di nuovo, e il re di bastoni, ma sto scherzando, di nuovo, ho due volte, lo devo fare vedere, il re di spalle sotto il mazzo, guardate, aspetta ve lo faccio vedere così, ho due volte la stessa, energia, due volte, con il mondo, perciò, cosa ti viene consigliato, se sei tu, occhio, se sei l'altra persona, di nuovo, non è tutto tardi, non è mai tardi per recuperare, anche se una cosa è già stata finita, può essere anche che un capitolo nuovo, può riaprire, un capitolo, un libro si è chiuso, e un altro libro si può aprire, non dobbiamo pensare, che è sempre tutto finito subito, non si può fare più niente, no, volere e potere, auguri anche a te, buona fortuna, capricorno, allora, adesso, per la vergine, ciao vergine, anche poi a voi è un po' tosta, con tutti questi pianeti opposti, non è facile, però dico sempre in inglese, si dice, what doesn't kill you makes you stronger, cosa non vi, cosa non vi uccide, vi fa più forti, no, allora, vergine, my love team, datemi per la vergine, asso di bastoni, il diavolo, che pareva, lotto di spade, sei in trappola, vergine, due di denari, non sai come uscirtene, fai difficoltà a uscirtene, non so se è di una cosa, un vizio, può essere un vizio, o un padre, una cosa che ti porta a fare sempre la stessa cosa, e fai difficoltà a uscirtene, dammi l'asso di bastoni, la ruota della fortuna, 9 di coppe, il ragazzo di spade, dammi il diavolo, l'eremita che sei tu, 7 di bastoni, 9 di denari, la temperanza, le risvegli anche tu, e il re di bastoni, e come che ti stai prendendo, a pugni in questo momento, tu e te stesso, sto scherzando, mentoricamente, energeticamente, come ti stai prendendo, a schiaffi, a te stesso, perché tu dici, no devo farcela, e poi dici, sai quando il corpo vuole fare una cosa, però l'anima ti dice un'altra cosa, o viceversa, dici no io la voglio, però poi l'anima dice no, adesso no, come il diavoletto e l'angioletto, l'angioletto no, tipo fai sì falla, l'anima gli ho letto, e l'angelo dice no, non fallo, o viceversa, no tipo sei, ti ne vuoi uscire di qualcosa, però fai difficoltà, o vuoi fare un atto, però non fai, perché hai paura, e poi lo stesso dici, sì ma io la voglio, perché mi è così difficile, mamma che caos vergine, caos, non ci pensare, fai quello che ti porta il cuore, tu mi dici ma neanche il cuore, più so dov'è, neanche più so che cose il cuore mi vuole portare, io se ti posso dare un consiglio vergine, tranquillizzati, rifletta, rifletti, prenditi tempo, non più tanto tempo, però ti rincolnisce ancora di più, però cerca di trovare, per esempio il fine settimana, cerca di trovarti un'oretta, anche qualche più di un'oretta per te, ma anche il prossimo weekend, appena che un po' di tempo, di pace, ti trovi di pace, non devi pensare che sono per di tempo, o pensi, perché tu mi dà l'input, sì ma io devo fare tutto, se no ho la sensazione che il tempo mi corre via di mano, o io sempre, tu mi dà l'input, penso sempre che sto perdendo qualcosa, no, prenditi un po' di tempo, anche per te vergine, non stai perdendo proprio niente, ma solo prenditi cura di te stessa, o di te stesso, e da là poi ti puoi prendere, puoi avere un'azione, no, o sai un po' più tranquillamente la cosa vuoi, non so a cosa, non me lo dici, dammi un consiglio, dieci di bastoni, sei di coppe, e il cavale di coppe, adesso è maledetto, adesso è maledetto, la morte sotto il mazzo, sei ancora innamorata, o innamorato, di, sarebbe banale se dire adesso una situazione, ok, può essere di una situazione, però anche di questa situazione, si parla molto specifica di una persona, per questa situazione, diciamola così, ed è pesante non poterti esprimere come vorresti, sei in conflitto, ragione, sei tanto in conflitto, però, di nuovo, io dico sempre l'amore, vince, qualunque, momenti, Buona fortuna anche a te, Vergine, trovatelo quel tempo, quei cinque minuti, prendeteli per te, per riflettere veramente, cosa vuoi nella vita, no? Che anche Capricorno, è Saturno, no? Ho già detto, avere Saturno, in una posizione, non è una, non è un carnevale, non è un no, abbiamo capito, cancro, semi di acqua, ma love, tentatemi per il mio cancro, cosa cancro si può aspettare, ragazze di coppe, la regina di denari, cinque di bastoni, qualcuno è interessato a te, e tu dici, no, io non ho tempo, io, non portatemi a nessuno, io non ho tempo, sono in stress, sapete quel cartone animato, Mimì, non so come si chiama, quell'uccello, no? Quello che fa, Mimì, così, mi sembra tutto così, e il matto sotto il matto, ma sei matta, così, io ti vedo così, ma sei matta, non mi portate a nessuno, non ho tempo, ok, non ti incazzate, diamo, dammi il ragazzo di coppe, il sole, il risveglio, cancro, ascolta, ascoltate, il sole, il risveglio, e di nuovo il matto, lo prendo qua, te lo faccio vedere, non ti preoccupate, lo faccio vedere, dammi la regina di denari, sei di bastoni, due di denari, e nove di coppe, dove ti metto? Cinque di bastoni, dieci di denari, dieci di spade, e il nove di bastoni, e la ruota della fortuna, cancro, cancro, allora, questa, c'è una persona, non è, non è una energia, non è una, non è una energia, sì, non è una situazione, è una persona, che sta cominciando, a interessarsi tanto, tantissimo, verso di te, su di te, non so se lo sai, non so se lo sai ancora, cancro, molto interessata a te, e tu dici, come già detto, non mi portate nessuno, perché non ho tempo, ma, non è che ti puoi nascondere, dietro un dito, cancro, no, se viene percepita, se viene no, chiamata, magnetizzata, se stice così, sai, quello che voglio intendere, avete capito, perché tu dici, no, ma, adesso no, non posso, io non ho tempo per soffrire, non ho tempo per l'amore, devo concentrarmi, sul mio lavoro, sul mio progetto, della mia vita, lasciatemi stare, non me rompete, però lo stesso dici, ma chi è Luana, me lo puoi dire, per favore, chi è? e tu mi dici, Luana, ma chi è allora, chi è? Non puoi dire, per favore, chi è, no, questo è bello, devi scoprirlo vivendola, perché con la ruota della fortuna, cancro, tu mi dici, il stesso, c'è il cambiamento, o la possibilità del cambiamento, ci potrebbe essere, saresti tipo, un po' open, no, apertina, e se lo stesso, curioso di sapere chi è, allora, cancro, non raccontate a me, non raccontarmi a me, che non sei curioso, se non hai tempo, perché già ho solo interesse, ti piacerebbe, non so se sai ancora, sembra, 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 che sai già chi è, sembra, o si sta facendo, in qualche modo, avanti, perciò, ti ho detto già tanto, perché non mi voglio influenzare poi con le mie letture, sì, e poi pensate, sì, ma Luana mi ha detto, no, dovete viverla, la vita, viverla, vivetela, andate fuori, dammi per favore, un consiglio, per, il mio cancro, 8 di coppe, l'imperatore, e 5 di bastone, tu mi dici, ma io non ho tempo, non ho tempo per queste frotto, non ho tempo per le cazzate, e 5 di spade, guarda che tu ti sabotaci così te stessa, perché sai che non sono cavolate che dici, perché tu anche mi confermi, sì, ma io ogni volta so che poi la gente se ne va, mi lascia in 13, poi alla fine sono io a combattere con me stessa, no, non è così, non sono tutti stronzi, cancro, non sono tutti stronzi, e con questo l'ho detto tutto, buona fortuna anche a te cancro, vi amo, vi adoro, vi adoro, allora, adesso per i pesci, ancora qualche giorno, no, perciò vi faccio lo stesso, gli auguri, mi siete dimenticati, a fare gli auguri all'ariete, che tra poco, vabbè, la prossima settimana, no, non porta bene a fare gli auguri prima, comunque a voi, pesci, a chi ha gli ultimi gradi, no, gli ultimi, eh sì, gli ultimi gradi dei pesci, tanti auguri, pesci, allora, my loft, andatemi per i miei pesci, cosa pesci si può aspettare, per questa settimana, cavaliere di denari, cinque di bastoni, tre di coppe, eh mamma mia, ma che caos, anche tu, eh meno male, eh meno male, ho detto che, no, segni d'acqua, da adesso, vanno, mamma mia, che caos, vado, è troppo lenta, vado più forte, vado più veloce, più, vado più lenta, in quale ritmo vado, tre di denari sotto il mazzo, hai un interesse di lavorare qualcosa, però, hai un po' di difficoltà con il ritmo, pesci, hai difficoltà con il ritmo, o sono energie, non lo so, queste anche sono energie, a come ti dovresti porre, no, a come ti dovresti, farti vedere, entrare, hai difficoltà un po' con il ritmo, tipo, no, vado veloce, no, poi alla fine faccio dieci passi indietro, però poi, alla fine, lo stesso, vado, venti passi avanti, vado a destra, vado a sinistra, dove vado, ti metti un po' i bastoni tra le ruote, pesce, vediamo, vediamo, dammi il cavaliere di denari, il nove di denari, la de herfant, il mondo, ah, capito, dammi il cinque di bastoni, otto di bastoni, dieci di denari, e la temperanza, dammi il tre di coppe, cinque di denari, dieci di coppe, e l'asso di denari, e il tre di denari, che lo prendo tutte e due, qua, allora, tu mi stai confermando, una situazione, che ti è importante, però c'è un'altra situazione, che ti è anche importante, tu dici, se lascio quella, mi dovrei acciappare quella, dovrei lasciare quella, se lascio quella, non so se poi mi prendo quella, per ritrovare con quella, allora, non so a cosa mi riferisci, può essere anche, ma tu mi dici, mi piace anche questa situazione, però mi piace anche tanto quella, come devo, cosa posso prendere, come si dice, porti la torta, te la vuoi anche mangiare, una cosa così, mi viene tipo, no, si, hai capito cosa voglio dire, tipo, stai portando la torta, come ospite, o il pasticcino, e te lo mangi pure, una cosa così, tipo, vuoi avere tutto, vuoi il soldino, e il panino, ecco, se te l'ho data, te l'ho detta chiare, vuoi il soldino e il panino, puoi avere, pesci, non ti sto dicendo, non puoi avere il soldino e il panino, tanti hanno il soldino e il panino, il latte e la botte di vino, tanti hanno anche questo, perciò, tutto è possibile nella vita, però, dipende dalla mentalità, dipende al compromesso, dipende a come vuoi dare, a come ti vuoi opporne, oppore, darti, no, come ti vuoi dimostrare, al compromesso, alla comunicazione, anche noi, come ci presentiamo, a cosa vogliamo, la vogliamo cotta, vogliamo crude, perché la vogliamo così, non ti incasinare, non ti, puoi averla, se vuoi, puoi avere questo, questo e questo e quell'altro, però basta comunicare, basta essere anche chiari, con la mente, a dove ti stai focussando, perché da quel punto, da quel momento, poi, poi sì, poi non devi neanche più, percepire il ritmo, perché poi va tutto sul naturale, ti è importante, però vedo tante, tanti, work on progress, no, tanti posti di blocco, di, che stai lavorando, e ti è tutto importante, perciò tu dici, come posso portarmi tutto, tutto al mio favore, tutto per quello che sto costruendo, puoi, basta essere chiari, concreti, e decisi, e onesti, ti sto dicendo quello, perché di nuovo, Nettuno e Saturno, sul tuo, no, perciò, quella, mi sa che l'hai capita, pesci, poi, puoi avere quello che vuoi, non dico che sei disonesto, pesci, non voglio dire quello, tante volte, ci mettiamo, quando vogliamo tutto, ci mettiamo, in uno stato di confusione, e ci creiamo anche noi, un po', no, quelle fantasie, un po', che alla fine, diciamocelo chiaro, non vanno adesso una parte, perciò, se sei onesto, con te stessa, o con te stesso, pesci, automaticamente, le cose, ti arrivano più naturale, perché sei tu naturale, dammi un consiglio per i miei pesci, un consiglio per i miei pesci, ma è lofty, no, un altro scioffo, un altro scioffo, l'imperatrice, 5 di enai lo prendo qua, e il 5 di bastoni, wow, il re di bastoni sotto il mazzo, tu mi stai confermando, per una persona, una situazione, per questo vuoi tutto, per una persona, una situazione, c'è costanza? E tu dici, sì, so di farcela, ma perché mi è importante, e se vuole il solo del panino, e più la botta di vino, è perché la voglio portare, a una situazione, che mi è molto importante, fallo, se ti è importante, fallo, pesci, però, di nuovo, falla, come ho già detto prima, no, esprimiti quello che vuoi, devi essere concreta, devi essere, no, concreta quello che vuoi, e crederci, senza più fantasticare, più di tanto, e portare i fatti, eh, buona fortuna, pesci, allora, ma, chi viene adesso? Adesso tutti, di ruolo di tampuro, ok, ciao scorpione, ciao a tutti, ciao a tutti, scorpioncini miei, voglio tanto bene, vi adoro, iniziamo, vediamo per voi, dammi per favore, per il mio scorpione, ma il lofty, nove di bastoni, otto di spade, l'asso di bastoni, e il tre di denari sotto il mazzo, hai paura per un nuovo inizio scorpione, hai paura di un inizio che ci sta pensando, tu hai pensato troppo, forse anche troppo, esausta un pochettino, però ti porta paura, e se non hai paura, tu me lo dimostri più come, ehm, cosa mi porta, come mi porterà, come me lo devo immaginare, questo nuovo inizio, perché anche il tre di denari sotto il mazzo, vediamo, vediamo, dammi il nove di bastoni, the elephant, dieci di denari, due di bastoni, dammi l'otto di spade, la morte, la luna, ragazzo di spade, dammi l'asso di bastoni, l'asso di spade, tre di spade, e il mago, due di spade sotto il mazzo, allora, io devo essere sincera, Scorpione, la vuoi ma non più come i ricordi prima, tu mi dici la voglio ma i ricordi mi fanno male mi fanno paura però la potenzialità porca la miseria è tanta, è grande però è come dici, io me l'aspetto giusta me l'aspetto corretta me l'aspetto onesta perché sono così, mi dimostro così e di conseguenza me l'aspetto anche perché io sono così l'unica cosa che ti fa paura o hai paura di una situazione non so che cos'è, non so se si parla di... è una cosa che ti dà molta passione però che ti tanto pensi della trasformazione che tramite questa situazione come la trasformazione è successa verso di te come è andata è venuta verso di te Scorpione come tu ti sei trasformato questa situazione sei trasformata tu mi presenti ho tanto rispetto per questo fatto no ansia no non è una cosa brutta rispetto però tipo che ci dà tanto valore perché porti tanto rispetto però automaticamente ha un po' di paura paura se non dovrebbe funzionare come vorresti di nuovo non so di cosa è Scorpione è un po' complessa questa lettura però sembra come qua che è come che tu mi dici sì ma doveva o sta andando così perché deve andare così allora anche va bene così ma l'accetto perché è come che qualcuno qualcosa ti vuole ti vuole come puntare tipo la direzione tipo Scorpione guarda che è là guarda di là è di là la situazione è là il problema e tu dici ma tu sai che è di là in quella parte in quella direzione non ho mai visto ho ancora un punto dolente è strano da spiegare un punto dolente che qualcuno ti vuole riferire guarda Scorpione guarda di là o guarda in quella direzione se guardi in quella direzione sai più specificamente a dove ti vogliamo interessare per guarire qualcosa si sta parlando un po' di guarire io non credo che questa situazione è solo una situazione io credo che sono tanti tanti punti di questa settimana perché io credo che qua si parla che finalmente stai arrivando sta arrivando a una conclusione una cosa che si aspettano in questo modo di un lavoro o di una può essere anche di un matrimonio può essere anche di una convivenza di una cosa che finalmente è ufficializzata si sta ufficializzata dopo tanto che ho aspettato di questa parte è come che mi dici ho paura ho rispetto a iniziare però dopo tutto quello che ho passato so di farcela e qualcuno qua ti vuole puntare a una direzione dicendoti scoppione guarda in quel punto è là che la puoi guarire è facile come qualcuno ti dà la motivazione di guarire più facile non so chi è questo è anche sono io non lo so è qualcuno che sa i fatti diciamola così dammi un consiglio il mago di nuovo la regina di coppe il sete di coppe perché sempre quando qua inizierai dopo una una non cosa di fermo un tempo di fermo tu mi dici sì c'è stata questo no questo 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 fermo c'è stata e adesso sta cominciando a proseguire però come viene come viene dato il tempo come il ritmo viene dato ti metto un po' di ansia perché come che sai già come andrà o qualcuno ti vuole puntare come tipo andrà perché tu mi dici sì allora per questo fatto ho tante opzioni e per questo fatto a come mi sono messa a questa energia allora mi porta tante opzioni è come che hai rispetto però allo stesso tempo sei felice è strana spiegartela come dici ma come ha fatto allora come allora di dove dovrei migliorare no per portarmela sempre sul migliore io spero mi capire è un po' complessa questa lettura però spero che ti ho potuto aiutare lo stesso ragazzi grazie mille buona domenica questa è stata la mia lettura domenicale per la settimana del 18 marzo in poi da domani Gordon thank you so much for your support grazie mille un like per favore non mi dimmi questi like buona domenica a tutti ci vediamo la prossima settimana con la mia lettura un caro saluto a tu Luana a un